Salve ragazzi, questo è il 38, come va? Eccoci, eccoci qua su Primal Carnage Extinction Eh sì, lui sta mangiando Siamo a Summer Hut Wave Wave, Wave Devi stare canto Sei va bene Allora, salve ragazzi, come va che si dice? Sì, siamo dopo tanto tempo a Primal Carnage Ci facevo anche partire, ma soprattutto perché c'è stato l'update dell'evento estivo Andiamo a vedere le news Le news Oh, vediamo news Vedo, vedo cosa Oddio No, hanno aggiornato anche il modello Uh, hanno aggiornato visivamente il modello Bella Madonna, sei euro Sei pazzi, sei pazzi Sei euro, sei euro per quel cosa Oddio, cosa sei? Oh mio Dio Norton Puss Oviraptor Beh, Oviraptor è un parolone Però, bello è più maggio Da ora in poi, spero che non vedo una skin come questa Anche se mi ricorda Sì, un pavone Sì, basta che non si pavonegge Tutto apposce Scusate per il battuto Vediamo cosa Oddio Cosa cacchio sei? Strogi o Fus Oh mio Dio Cosa cacchio sei? Questo è uscito dal mondo di Monster Hunter Demonicus Dei monicus Cerato Ok Più che altro questo mi interessava Che cacchio sei? Oddio Rampastos Acro Acro Canto sa Madonna Piumaggio Ovviamente tutto pittato Ovviamente Però va bene Cose Cosa Uh Venatos Il Venato Uh bello Venatos Acro Venatosaurus Era È un carnivoro Oddio Ce l'hanno fatto bene Futtieri Sembonallosaurus Sì Venatosaurus Venatosaurus Non trovo il mio cellulare Avevo il mio cellulare Sì Ecco Il Venatosaurus Perché Se lo sbaglio Perché dal nome è preso a quello Se non erro Era un predatore E' il Venatosaurus Eh Ah eh Ecco che mi ricordavo E ho detto Non è l'osauro Eh Il Venatosaurus E' quello là di King Kong Quindi hanno preso esempio Ok Oddio Cosa sei Cirus Eh Cairus Cirus Ciro Ciao Ciro Ti chiamano Ciro Oh mio Dio No Oranos Madonna Che brutto Che brutto Versione Spino O la Oranos Era Nell'erbivoro Quello là Strano Con la schiena In quel modo Infatti Sarebbe una sottospecie Di erbivore Oddio Bruttissimi Madonna Pagamba Dove cacchio Le avete trovati Spino Andiamo sullo special Ma Dove restare Eh sì Ma ricordo Questa skin Questa skin Mi piace troppo Della Acco Ok Vabbè Questi Non ci stavano Gratuto Cosa pari No eh Se mi piacerebbe Vabbè Bene ragazzi Vediamo se abbiamo Qualche Oh Hanno aggiornato Proprio le pose Dei personaggi Uh Hanno aggiornato Oddio Oddio Posso alternare Il costume Oh Ok Sarebbe che devo Far pochi acquisti Secondo me Ah Oddio No 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 Rimettiamoci il vestito Per favore Abbi Fidu Ok invece Oh Ok Mi tengo qua Ah quindi Ci sono delle versioni alternative Di una volta Hai capito Ok invece Figo questo Mi piace Mi tengo questo E te invece Vabbè Non mi sembra più cambi tantissimo Cambi Vabbè Qualche Dinosauri Allora Ah sappiate che Aggiorneranno A breve Il E metteranno Il paghe Ah Comunque io Ho tutte ste skin Vabbè Io ho la sua skin Questa che richiamo Moltissimo di Jurassic Park Di Jurassic Park 2 Lui invece Ho un po' di skin È vero È vero Io avevo un po' di skin Sì Eh Eh Non ve l'ho mai fatto vedere Effettivamente Le sue skin Ah madonna Questa è acciacatissima Vabbè Rimaniamo con Io avevo questo Giusto Sì Che magari Vabbè Lui invece Non è anche una skin Vabbè Vabbè L'ho già Guarda questo prima Lui invece Mi sa che non Ah sì Ah io ho qualche schifo Oh vabbè No Non mi piace Dai Usiamo questa Ok Ah Bruttissima Vabbè Lui ha Oddio Ecco ok Prendo queste Che mi piace Lui mi sa che non ho nessuna Infatti Sì perché alcuni Le avevo ottenute Tempo fa Eh vabbè Lui ha Guardate quante skin Oddio Mettiamo pure questa Oh Oh Rimaniamo con queste La mia preferita Lui invece Non ho Altro Eh beh Carnotauro Madonna che tutte skin Mettiamo questa Ah Lui Cambiarlo Non mi piace Voglio questa Ok grazie Grazie Per il resto Niente Vabbè 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 Di inventario Non ho nulla Vedete L'inventario E' questa roba Ah Parlando di inventario Bacca Eh scusate Ma customizzazione Il E lo spinosauro Eh lo spinosauro Non l'ho cliccato proprio Ah ok Perché non ho niente Ups Ok A posto Ok Andiamo a Multigiocatore Raga Vi ho perso troppo tempo Adesso giochiamo un po' Il party prossimamente Prossima patch Prossimamente Raga Ok Però Vediamo se posso collegare Dai Oh Che bello Possiamo giochiare 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 Vediamo un po' Eh da un pezzo Che non l'ho portato Vero raga Vabbè Non era Non era Madonna Oh Giochiare Se ne ha aggiornato Qualcosa Sono ben dottuna Manca Eh beh Quando io non lo gioco Dopo tanto tempo Lo spCE Lo scura Non lo E sto Tella Questa Di Di Se Questa Questa S Questa Per Vabbè Dopo Ma ecco dov'era Ma come sono morto Ma mi mancava Ma la gente ci gioca Sta migliorando fantasticamente Cioè nel senso che Non mi aspettavo che Oggi Intanto io sono più andato per vedere Le skin strane Oddio che skin brutto Vabbè anche lui Oh è vero Madonna che cacchio di skin Oddio Qua è tutto apparece Qua è ciao Oh mio dio Oddio È il veloce raptor Del È molto male È il veloce raptor Del Come si chiama Quello là che Il pensatore Il pensatore Ok la smette Ho sbattuto Ma se io ho tutto qua Eh ma il gioco è cambiato drasticamente Eh però c'è un ciccione Oh ciao uno di raptor Ciao Ah bellissimo Ha natuto sta cosa Ma oh mio dio che schifo Ma perché hanno queste brutte skin Ma che orrore Vabbè comunque Ah però Di questo è questa cosa Della visuale Oh mio dio No questo son mio Madonna sembra una skin Quella là Del predatore Del t-rex Che avremmo Che chiamano t-rex Di Monster Hunter Tanta roba ragazzi Tanta roba Intanto continuiamo Pensare che non ti fica Palla Devo togliere Ok Mamma mia Dopo tempo che mancava No io porterò comunque Parte che si lo porterò Per fatti mia Però Nuova mappa Nuova mappa Ok scelgo Vabbè Non si può diventare In terza persona Oddio Nuova mappa Vabbè Tengo qua la pistolina Oddio Cioè Allora Questa mappa Era di una vecchia update Ma non l'ho mai vista Sta mappa Oh Dopotanto Finalmente Dopotanto Tempola Vedo Intanto vedo Anche le skin Dei personaggi Madonna Che kill Basta di stare a fermi Va bene Non dobbiamo mirare Mi sento qualcosa di grosso Vabbè Ok Sì scusa che si è concentratissimo Non uso mai lei però L'ho preso dalla faccia Lol No scusate qui sotto a me che non c'è da ma ronda c'è altri pezzi aaaah sta tutto benissimo è stato bellissimo vabbè mi stavo divertendo però con lei quindi riscegliamo la bufera di neve eh la bufera di neve pure io la bufera del sabbio volevo dire di neve se c'è aone sono dietro i dei magari sblocco qualcosa ragazzi usando lei io non uso da un pezzo dovrei sbloccare anche dei contenuti dovrei sbloccare anche dei contenuti perché mi sa che ci sono cose stile hanno messo o qualcosa tanto è un evento quindi si potrebbe sbloccare effettivamente delle cose spesso il trucco è stare appoggiati alla schiena stai facendo qualcosa di diverso stai facendo qualcosa di diverso stai facendo qualcosa di diverso una cosa baronna ma muro carmola cornute pure mazziata maro aspetto un po' così grosso che mi arriva Oh, stiamo a fare... Bella! Oddio che spin! Bellina! Oh, però la gente qua so che c'ho però... Compro uno coso! Madonna, dove ti è gustato? Come si capisce? No! Come si capisce? No! No! Mr.Raptor, tutto bene Mr.Raptor, mi ha appena scoppiato l'anima però adesso ho diventato troppo per me, quindi facciamo usare lei però mi sono spaventato ah, così impari, ah, ci ho ammazzato con tutto l'amore in questo modo ecco, ora credo che i fan del Vora, che esiste gente che adorano il Vora eh, il Vora, cioè, e questo è ancora, oh, tutte donne vanno via queste, eh complimenti, il Vora sarebbe proprio gente fanatica che adora vedere le donne mangiate da creature sì, esistono anche 10 centi in questo tipo beh scoprirete cose nuove eh 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 che c***o, che mazzo mi hai preso una mirada ahia basta, sei notte e va bene però, mi scusci, signora no io voglio usare lei, voglio livellare con lei, tanto mi sto andando bene, faccio finta madò che kill e uno dice, no devi mirare, devi mettere lo zoom così, ma dai, ma levate io sono un pro no non è vero, neanche un po' è soltanto che sono un po' casato, quindi, perché so che ci sono delle news, novità, aggiornamenti per questo motivo ahè ahè fuori un fuori due no ah basta ero per c***o, due ero per c***o ok? ah 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 siamo, siamo più avanti, è cinquantotto e il plus è a settantasec cinquantotto i dinosauri, noi siamo fatti settele stai a no 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 si è solo un rumore e i passi lo copriano ma to che che ah madonna ah vabbè 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 tecnicamente per nada non l'ho mai fatta io faccio punti mentre andate ho quasi vabbè 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 perchè io uso sempre lei, cambia personaggio lo so ma io mi sto facendo un sacco di punti con questa volevi volevi ok è andato oh, bene adesso però mo devo, che cosa devo fare mo, e beh, mo faccio i tipi simpatici ciao qui andiamo di giocare bene mo la perderemo malissimo comunque dai, almeno abbiamo una nuova manca quello mi hai fatto vedere ok è andato aphi oh, come si è andato aphi ah, oracqua oracqua martedì ora che macchè, non assoluto Oddio che cacchio di skin sei Tizio Maura Oddio Un IP Grazie Grazie Così a caso Oddio Ok Punto per le Questo però è che Che spoglia per la Cioè Che di Rafe per la Non ci passi È proprio del grande Non è trovato male Cioè è la mamma c'è la mamma Oh, che masacomo! Possiamo... Vabbè, mo ti avevo detto, no, spul Spul, ancora più profonde Spul, ma... Spul! Ok, andiamo! Ok, andiamo! Andiamo cari il fisio Oh! Ah! Ho fatto un'altra... Una... Una scivolata... Vado, ho giocato molto meglio, raga, con... Ho fatto un peso con... Con gli umani, che sono molto... Poche volte... Comunque dopo questo stoppiamo il gameplay, eh! Magari la prossima volta ne riporterò un altro gameplay Giusto per... Insomma tutto perché Voglio fare un gameplay prima Della patch Madonna, non vedo nulla Ok, ho ingornato... Non so bene chiò quello... Ma ho fatto un altro video... Ok, ho il buon altro... Ah! Elio Elio Allora, un altro... Oh, quella bella sta... Quelle è una mi metteva che voglio me che... andiamo oh proprio perchè è classico io volevo allora dicevo però si fa anche altri video giochi altri che per i e... 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 no io devo ammazzare lei devo ammazzare lei devo ammazzare lei devo ammazzare lei ma va bene madonna complimenti no è stata io via oddio la maschera ora ci sta giocando però vorrei cambiare un cartac aia aia vabbè i voli i voli vabbè c'è stato c'è stato madonna quello che hai due mitra ok si il volante non lo so non lo so però è bellissimo che hanno aggiunto queste cose quindi vedete con quel gioco non lo so non lo so non lo so non lo so comunque porterò pochi altri gameplay perchè vediamo esatto è voluto non portare molti gameplay sui non lo so 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 la differenza di misur dimensionello è allucinante comunque dai stiamo a vincere però io sto tornando a giocare a due schifosi ma comunque almeno avete visto la nuova ma almeno questo state vedendo non lo so affianca ma ahaha hai ho ass Oh finalmente una kill Siamo a 2 Cioè ho fatto 2 kill qua Ci rendiamo conto Che ho fatto su 2 kill con i dinosauri Cosa è allucinante Se non mi dovrei fare più kill Con l'ola Sai che? Io spero che aggiunga una classe in più per gli umani Se non mi sarebbe corretto Quanta gente? Potevo evitare Oddio Non ho mai usato l'ho mirato Morto male Questo dimostra quanto faccio scopo Vabbè non stiamo mostrando Tanto stiamo mostrando Quanto mi sono passato Ma questo mi sto qui per dire Il problema è il problema Il problema è il problema Madonna che casino Aia che succede? Lì è quella Vedrai quanto è bella quella punta donna Mi piace Mi piace un sacco Un casino Forse qualche soldino Un pensierino Me lo faccio Qualche cosa Qualche skin Eh Cacchio Che è successo? Ah è finito Madonna Mi sono preoccupato Bene raga Madonna gli occhi Mi hanno stirpiato Mamma mia Vabbè Abbiamo finito raga Abbiamo finito Vabbè questa mappa Già la conosciamo Tutta a posto Oddio Un cosoglio ventino Ok Ho visto un T-Rex Ma era una persona Vabbè Siamo a bella forza Oltre Quindi Oh però abbiamo Una bella match Mi è piaciuto Non abbiamo anche laggato tantissimo Spero che vi siete divertiti Io si Onestamente Oh mio dio Nuovo schimbi Che skin strano Vabbè Passaglio Bene raga Io qua vi saluto Vabbè Si mangia persone Che stanno all'interno Uno della 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 Abitazione Ma scusate Se non lo azzurro Cosa Non lo faccio 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 Vabbè Io qua vi saluto Qui dal 38 Al prossimo video Passo E chiudo Bene raga E c'è un bracciosauro Dietro che sta arrivando Non lo faccio Vabbè Qui dal 38 E spero Il video vi sia piaciuto Si qualche poterà Anche la prossima volta Non so quanto Dopo Soprattutto con l'update Del Pachy Che sarà Una nuova versione Credo che Sostrenderà O prenderà Un binotauro Tutto nuovo Come fazione O Può essere Un'alternativa Del Del Carnotauro La categoria Dei Carnotauro Cioè Delle dimensioni Però il Pachy Mi sa che Poi più piccolo Poi più piccolo Bene raga Qui dal 38 Mi passo Tutto Bene Ecco Un'alternativa Grazie a tutti.